No, ragazzi, scusate se parlo poco ma sto un po' sovra pensiero perché ultimamente c'era un referendum abbastanza importante che ovviamente quando sto registrando il referendum si deve fare fra poco, mentre invece quando voi starete vedendo questo episodio il referendum sarà stato fatto da un pezzo. E c'era praticamente su una piattaforma di streaming live c'erano dei tizi che stavano dicendo una cosa sbagliata su questo referendum perché influenzati da degli streamer che avevano diffuso delle loro idee, tra questi streamer c'era pure Daily Mellow, lo dico subito, avevano diffuso delle idee che secondo me erano sbagliate rispetto a sto referendum e avevano influenzato tantissimi ragazzi che stavano guardando queste live a fare la scelta secondo me sbagliata nel referendum, ok? Non dico qual è giusta e qual è sbagliata perché comunque è anche soggettivo, però secondo me è la scelta sbagliata quella. E io insomma adesso stavo nella live di un altro streamer che si chiama Ivan Griego e stavo dicendo sta cosa, dico se voi volete votare in quel modo lì è perché vi state facendo influenzare dal cerbero. E un altro lì ha detto, no non è vero Depe, Depe mi ha detto, ma come Depe è lo slang del cerbero, quindi questo qua si è contraddetto da solo perché, si è contraddetto da solo perché, perché dice no io non mi faccio influenzare dal cerbero e poi usa proprio le parole che usa il cerbero, veramente a pappagallo, quindi ti sei buggerato da solo praticamente. Mi hai fatto capire che in realtà sei influenzato dal cerbero, ok, comunque, sì alla fine vi ho detto, non vi ho detto il referendum ma vi ho detto chi erano tutti gli streamer in praia, perché vi ho detto sì, Ivan Griego, Cerbero, vi ho detto anche Coso, Delimello che ha parlato in quello stream, ha detto le sue, poi Delimello diciamoci, di politica ci capisce perché è del settore, però è un po' una testa di caccia, nel senso che lui molte delle cose che dice le dice per provocazione, e poi spesso le opinioni che ha sono errate, lui il 90% delle opinioni di Delimello, io non so perché, sono totalmente errate, non so dove esce Delimello, come fa, cioè, con che, perché lui ragiona con l'antilogica, con logica del bastian contrario, cioè nel senso, per lui non è importante dov'è la verità e dov'è la giustizia, dov'è la logica, per lui è importante semplicemente fare il bastian contrario, dire il contrario di quello che pensano gli altri, questo perché, perché forse evidentemente, dalla sua esperienza su youtube, ha scoperto che questo è un modo sicuro per avere l'attenzione del pubblico, perché se tu dici le cose che tutti già sanno, che vogliono sentirsi dire, dicono ok, nessuno ti caga, se invece, cioè ti cagano, mi dicono vabbè, se invece tu dici il contrario di quello che dicono tutti gli altri, magari argomenti, ma anche con argomentazioni fallaci, cioè dicendo stronzate per avallare la tua finta, tra virgolette, opinione, allora tutta la gente comincia a criticarti, non fa, eh ma che dice, e questo genera traffico, cioè nel senso, genera risposte sotto al tuo video, nei commenti, genera discussioni, risposte, gente indignata, vespaio, gente che viene a rompe le scatole, e questo porta tutta acqua al mulino del caro Dallimelo, che quindi ci sguazza e ci marcia, ma secondo me, ma secondo me questo modo di fare, oltre che stupido, è meschino, perché cioè tu stai scambiando la tua dignità, la tua onestà intellettuale, e soprattutto la giustizia e la verità, con delle views, questo lo fai per views, tu in pratica sacrifichi sull'altare del successo presunto, delle views, delle visualizzazioni, e dell'attenzione mediatica che ricevi, sacrifichi tutte quelle cose che per me sono sacre, come la verità, la morale, la giustizia, e la logica, e il ragionamento, e tutte queste cose qua, insomma, il ragionamento logico, queste cose qua, tu le sacrifichi, rischiano anche di fare la figura del coglione, ma della tua dignità, anche sacrifici, Dalli Mello, secondo me, è una, è una, per questi motivi qua, cioè, ma che magari, se qualcuno gli elincherà sta, sta puntata, Dalli Mello si incazzerà, però, secondo me è così, è tanto bravo a parlare, scrive libri, si occupa di politica, opinionista, però secondo me è una, perché lui sa bene che il 90% delle volte dice stronzate, ma lo fa a posto per ottenere, per avere attenzione, per me è una cosa terribile, è una tattica, un po' politica, un po' subdola, lui che sta nell'ambiente politica, lui che sta nell'ambiente politico, lo sa quanto è sporca, è schifosa la politica, no? E praticamente, la politica è la menzogna, portata a professione, secondo me, a me mi fa schifo questo motivo, la politica, perché è la menzogna, portata a professione, sono pochi i politici, quelli sinceri, che lo fanno per il bene della comunità, e quei pochi, di solito, soccombono, perché la maggior parte dei politici, in realtà, sta lì per interesse, e parza i soldi, per fregare, per scammare tutti, per fregare il sistema, e ottenere un tornaconto personale, sostanzialmente, e per ammanicarsi, con degli altri poteri forti, che sono ancora più forti della politica, in passato, c'erano, come si dice, le logge, i massoni, adesso, i massoni, non c'hanno più molta potenza, però, ci sono sempre delle lobby, ma soprattutto, soprattutto, più che le lobby, c'è il crimine organizzato, che spesso sta a braccetto, con certa politica, non dico tutti i politici, ma con certa politica, e si sa che l'erba cattiva, è la più dura da eradicare, no? La più dura da sradicare, è l'erba cattiva, quindi, farei quello stronzo, e vattene, quindi, i più forti in politica, sono sempre quelli che sono ammanicati, col malaffare, alla fine, capite? Comunque, ritorniamo al nostro discorso, stavo dicendo, questo fatto qua, del, che poi è anche legato, questo referendum, perché il referendum, era sul, su ridurre, i parlamentari alla camera, e ho sentito, cioè, uno dice ridurre i parlamentari alla camera, e già dicendo così, la maggior parte delle persone dice, ok, facciamolo, sono anni che si deve fare questa cosa, siamo anche il paese, al mondo con più, deputati, inutili, è uno spreco di denaro pubblico enorme, se uno non lo fa, per motivi, diciamo, pratici, di efficienza della camera, lo fa, per lo meno, per motivi di spesa pubblica, per tagliare le spese, no? Che, in Italia, stiamo sempre che pezza al culo, stiamo che pezza al culo, perché, ovviamente, i politici, si mangiano l'impossibile, è inutile che ve lo dico, tutto quello che si può mangiare, i politici, se lo mangiano, che poi è anche un pensiero stupido, perché tu, cioè, rovini il tuo paese, rovini il tuo paese, e la qualità della vita del tuo paese, per il tuo, torna conto personale, per avere quattro spicci in più, e che cazzo ci fai con quattro spicci in più? I politici già prendono un mare di soldi, già hanno una vita agiata, però, molti non si accontentano, vogliono soldi in più, vogliono, vogliono sempre di più, e che cazzo ci devi fare con quattro soldi in più, una volta che mori, ti riporti nella tomba? Boh, li vuoi dare ai tuoi parenti, ai tuoi figli, ma che, ok, li vuoi dare ai tuoi figli, ma poi che nazione lascia ai tuoi figli? Una nazione inefficiente, corrotta, rovinata, distrutta, questa Italia gli vuoi lasciare ai tuoi figli, ma allora sei un coglione, molta gente purtroppo, ragiona sul breve termine, ma non ragiona sul lungo termine, non capisce certe cose, la riduzione di parlamentari alla camera, è una cosa che è stata osteggiata da certa politica, e hanno fatto delle campagne dicendo, riduciamo la gente, riduciamo i parlamentari, riduciamo l'efficienza della camera, riduciamo anche la rappresentanza dei piccoli comuni, sono tutte cazzate, ragà, perché se sono meno a lavorare, sono più efficienti a lavorare, perché? Perché i corrotti, quelli che si imboscano, quelli che fanno le cazzate, sono più facilmente sgamabili, se c'è meno gente in Parlamento, perché con tutta questa gente in Parlamento, ricordiamo, mi pare, 900 deputati, è un numero esagerato, mostruoso, inumano, impensabile, illogico, che è così alto, solo e unicamente, per favorire i nepotismi, le raccomandazioni, e la gente che vive che entra in politica, solo per mangiare, in pratica, tutti questi politici non servono, in pratica, la, come si dice, l'efficienza della camera, è data dalla qualità dei parlamentari, non dalla quantità, se i parlamentari sono così tanti, è più facile che in questi 900, si vadano ad imboscare, gli assenteisti, i fancazzisti, i mangioni, quelli che mangiano e basta, mi pare ovvio, se invece, i parlamentari sono di meno, sono costretti a lavorare, a passer culo, e quelli che non lavorano, vengono sgamati molto più facilmente, questo è il fatto, cioè noi dovremmo, secondo la logica di quelli del no, noi dovremmo mantenere, una camera, con tantissimi parlamentari, con 900 deputati, semplicemente perché così, tra questi 900 deputati, per fortuna, ce ne saranno, almeno 100 che lavorano, e si fanno il mazzo, e invece così, gli altri 800 si possono grattare, le palle, e prendere, mangiare i soldi, senza fare un cacchio, giusto? E invece no, non deve funzionare così, l'Italia è in marcia, perché ci sono questi ragionamenti stupidi, marci, e la gente ancora, gli va appresso, la gente ancora ci crede, a questi politici, che dicono, queste cazzate, per giustificare i loro comodi, capito? E' una cosa che a me, mi fa incazzare, ragazzi, io non mi incazzo mai, sapete, però davanti all'ingiustizia, io non mi incazzo, sì, passaggio segreto, questa è la puntata politica, regà, di politica non parlo mai, però stavolta ho parlato, perché veramente, mi sono rotto i coglioni, la gente stupida, si fa, poi come si fanno a bindolare, cioè, ragionate con la vostra testa, non state a sentire, il TG ha detto che è meglio, no, allora voto no, ma no, ragiona con la tua testa, porca puttana, non ti fa in tutta, da queste cose, poi io ho notato, c'è un TG famoso, non dico il nome, c'è una rete per ragazzi, che, per giovani, una rete che piuttosto, che è destinata ai giovani, no, Italia 1, ok, il TG di Italia 1, è ridicolo, non solo perché spesso dice, delle cazzate in vere conde, è perché, è l'unico che dà ancora voce, ma pure in rete 4, dà voce, a un certo politico, che ormai non c'ha più voce in capitolo, non dico chi è, ma l'avete capito, cioè poi lì non conta più niente, solo loro gli danno voce, perché, eh, perché ci sono gli interessi sotto, comunque, questo TG, giovane, tra virgolette, adotta una tattica, molto semplice, i primi giorni, in cui si parlava di questo, i primi giorni, in cui si parlava di questo referendum, mostrava prima le ragioni del no, e poi le ragioni del sì, nel senso, ti faceva prima vedere l'intervista, ad un politico, schierato per il no, e poi ti faceva vedere l'intervista, ad un politico, schierato per il sì, o quando non c'era l'intervista, semplicemente il servizio fatto dal giornalista di questo TG, ti diceva prima le ragioni del sì, e poi le ragioni del no, le ragioni del no, e poi le ragioni del sì, poi a un certo punto qualcuno gli ha detto, non si fa così la comunicazione, qualcuno gli ha fatto notare, che mostrando prima le cazzate del no, e poi le verità del sì, succedeva che agli spettatori rimaneva più in mente, le ragioni del sì, e quindi erano portati a voto al sì, e invece, dopo tipo due o tre giorni che facevano così, hanno cambiato metodo, e hanno fatto che prima mostrano le ragioni del sì, ok? mostrano le ragioni del sì, e poi, dopo, mostravano le stronzate che avallavano il no, quindi alla gente finito il servizio, gli rimangono più in mente le ragioni del no, è ovvio, alla gente rimangono in mente le ultime cose che hanno sentito di più, questo è ovvio, è proprio la base della comunicazione, per questo, nelle pubblicità, ad esempio, dei prodotti, il nome del prodotto viene detto sempre alla fine, a volte viene anche ripetuto più volte nello spot, ma poi, l'importante è che venga ribadito chiaramente alla fine, perché allo spettatore deve rimanere in mente il nome, la marca del prodotto, perché quando va al negozio devi cercare la marca, che ne so, devo comprare uno spazzolino, al negozio vendono 20 market e spazzolini diversi, a me mi deve rimanere in mente la marca di quello che stava in pubblicità, ok? E quella l'anima della pubblicità, farsi un nome, no? Anche se il prodotto è scadente, non importa, basta che c'è un nome, faccio l'esempio delle, delle felpe e delle magliette Supreme che sorrende, sono veramente oscene, ma valgono, costano centinaia di euro solo per il nome, o ancora la roba diciamo sportiva della Gucci, che fa veramente schifo, cioè tu tipo c'è una maglietta bianca con due strisce colorate sopra e il logo Gucci, è orrenda, è pure sottilissima, quella è la maglietta che tu uguale, con una stampa diversa dal cinese la pagheresti 5 euro, e quelli te la fanno pagare tipo 200, tipo 150-200 euro, te la fanno pagare qua a merda, ugualmente le altre accessorie tipo il cappelletto, la borsetta, che c'hanno sopra quel simbolino Gucci, sono verdi militari, con stampato sopra il simbolino Gucci, in verde più scuro, ma è orribile quella texture là, cioè quella, quel test, cioè come si dice, quella si chiama texture, che sarebbe, un logo ripetuto no, ce l'ha anche lui Vitton, che pure quello di lui Vitton mi fa cagare francamente, però, cioè che è proprio brutto, cioè che significa che c'hai sulle borse, c'hai sto logo marroncino ripetuto all'infinito, questa specie di stella, ma vabbè, proprio brutto, quello di Gucci è però quello più brutto, e quindi magari uno c'ha il cappelletto di Gucci, che oltre ad essere brutto, perché è verde con questi simboli sopra, che farà veramente cagare, messi a texture, a mattonella, c'ha pure tipo una fascia rossa, che è orrea, cioè rosso e verde, è un accostamento di colori orrendo, che non si può vede, però vende, e perché? A caso del marchio, perché ho Gucci, Gucci, costa un sacco di soldi, Gucci, è figo, ah sì, ok, è figo, però fa cagare a vedersi, è proprio brutto, no, no, è figo, è figo, fidate, è bello, come fa che se è bello? Sì, sì, perché costa 200 euro il cappelletto, ah, è bello perché costa, è bello solo perché costa 200 euro, no, per la forma, per la, io posso anche riconoscere che i prodotti di marca spesso, sono di buona fattura, nel senso, sono resistenti, sono ben confezionati, le cuciture sono fatte bene, il tessuto è buono, quello che vuoi, ma se il colore fa schifo, il disegno sopra fa schifo, l'accostamento fa schifo, dei colori, il design fa schifo, fa schifo uguale, quello se costa 200 euro, fa schifo uguale, mi frega niente, questa è risposta anche a Cicalone, che a volte sfoggia il cappellino di Guccio, come lo chiama lui, di Guccio, sì, è costoso, fa schifo, quello che fa, però a me mi fa cagare, ma Cicalone, mi dispiace, per me è brutto il cappello di Guccio, è molto più elegante in cappello anonimo, di un solo colore, o nero, o blu, e vai col tango, perché invece con quella schifo, di verde militare, o quel disegno sopra, la fascia rossa, non si può vedere il cappello di Guccio, ragazzi, ah, io devo cambiare personaggio, regà, fatemi cambiare personaggio, aspettate, devo rimettere Benjamin Franklin, regà, che questo spacca, tutto effettissimo, oh, stiamo all'ultimo livello, regà, vai Ben, Benjamin Franklin, effettissimo, ho perso un sacco di energia, già, forse durante il discorso, mi sono anche perso qualcosa per strada, nel senso, ho lasciato forse qualche punto in sospeso, no ragazzi, ditemelo voi, nei commenti, se ho lasciato qualche punto in sospeso, questo livello è incasinatissimo, è il livello meno lineare che ho fatto finora, super incasinato, vediamo un po', c'è quasi 5.000, vediamo un po', allora questo non voglio comprare, questo sì, perché c'è più danni, allora io ho 3, 6, ho 8 di danno adesso, e questo qua c'è 3, 6, 10, 3, 6, 7, 10, quindi questo già c'è un senso, però costa 22, non ce la farò mai a comprare queste ultime armi, regà, costano troppo, non mi fate grindare, fin dal gioco cosa costo fucile laser, ve lo dico subito, che è sufficientemente potente, guardate come spacca, poi soprattutto si è associato a un buon personaggio, ma nell'episodio finale utilizzeremo il personaggio più potente del gioco, quindi l'arma risulterà ancora più potente, siamo quasi alla fine della puntata, regà, tra poco c'è il boss, quindi non mi lasciate, restate con me, andiamo a pestare un po' di alieni, e Grazie a tutti